Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi andremo a scoprire che cosa si nasconde dentro un edificio che si trova all'interno della mappa in quale io non sono mai entrata, se non in uno scorso video, che ho voluto praticamente fare un piccolo spoiler di questo video sono entrata in questo edificio appunto che si chiama Hobby per vedere cosa c'era all'interno raga io non ero mai entrata e non ho idea di cosa ci sia dentro, se ci sono dei giochi, che cosa si fa non ho minimamente idea, anzi qua c'è con noi una pastinata che è una, oddio come si chiama in inglese, stringer, stringer, stanger, non lo so ragazzi ma comunque togliamola e direi di andare subito lì dove si terrà appunto il video e io non so se voi lo conoscete effettivamente questo edificio qua eccolo qua, eccolo qua, intanto ci prendiamo questo bello vetto perché noi per ora siamo sempre a Caccia di Uova che dobbiamo comprare un sacco di cose ragazzi, un sacco ecco qui, io non ho minimamente idea di cosa si faccia Mini World allora, qui mi sa che si corre, ruins, cos'è, cos'è, non lo so andiamo qui, entriamo all'avventura ragazzi oddio ma che è ma sono tipo delle mar, delle mar, sì, delle mappe parkour credo no? sono tipo delle mappe parkour interessanti, interessanti potrei pensare di andare ah, e meno male che arrivo del giorno perché se no non si vedeva niente e fammi salire perché non riesco a salire qui ok vediamo ora che ah, cosa c'è lì in cima? sono curiosa raga sì, sono tipo delle mini mappe parkour ah, no mi stavo giusto chiedendo se cado, cosa succede? mi sono risposta grazie, grazie no, 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 ma sono tutte mappe parkour oh, ci sono altre tipologie di giochi oggi facciamo una cosa andiamo a scoprirle intanto ormai mi sono fissata che devo fare questo, va bene? lo voglio finire ce la faremo? non lo so intanto finiremo questo e poi e poi e poi andremo a vedere che cosa si trova effettivamente all'interno di tutte le altre mappe per vedere se potremmo fare magari qualche qualcosa con altre persone dove sono caduta? oh, no vabbè, sì vabbè, vabbè, vabbè mi sono praticamente buttata niente raga non è cosa mia il parkour non so se ve ne siete accorti non lo so non lo so ragazzi non lo so se voglio ancora fare questo video sono ancora in tempo a cancellare voi potreste non vedere mai questo video ragazzi potreste non vederlo mai un attimo di concentrazione un attimo di concentrazione piano Sonia piano, piano, piano non c'è fretta senza fretta senza fretta poi, poi non è il momento questo eravamo quasi arrivati vediamo se andiamo da qua piano, 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 piano non è football Raga sono arrivata qui Non ero mai arrivata qui raga Ce l'ho fatta Oh mamma mia Mamma mia Ce l'ho fatta raga Ce l'ho fatta Ma di questo sarei ancora da qualche altra parte Non ci credo che ce l'ho fatta Facciamolo finish Si E dove siamo All'inizio Ok va bene Andiamo ad analizzare anche le altre mappe Adesso ma giusto per capire Se sono tutte parkour Sono tutte parkour Ma questa non sembra difficile Le ultime parole famose Raga Allora E qui Non sembra lunga questa Non capisco Non sembra lunga questa Giusto per capire dove arriva Non ho intenzione di farla tutta Eventualmente No Io odio il parkour Lo odio Io ti odio Hai capito Dove devo andare Di qua Di qua Ok Vediamo Ma c'è ancora Ah Ce n'è ancora Raga Però Dai Non sembra difficile Lo dico Non lo dico Maledizione Maledetti Ah Dai Questo è finito Ma Si cade dei buchi Non lo so Ok Ma a quanto ho capito Lo sono tutte mappe parkour Ne abbiamo finite due Ah Ti è Ma mi dice Capito Mi dai premi Quindi Questo l'abbiamo fatto Questo l'abbiamo fatto Ce ne mancano Quattro Andiamo a fare questo Oddio Ma che cosa Vediamo se entriamo qui Non possiamo entrare Dobbiamo scendere Scendiamo da questa casetta Così Boom Oh Momenti Ma si però Al buio Cioè va Ma è acqua Qua quella Grazie Molto gentile Si ma se magari diventi giorno Io posso anche vedere un pochino meglio Allora Non devo toccare l'acqua Raga Mi sto arrabbiando adesso Cioè Dove devo andare a saltare Non voglio toccare l'acqua Ma Mi devo avvicinare un pochino Eh Io Ok 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 Si entra qui No Allora Dobbiamo andare su questi birilli Su questi birilli Su questi bidoni Barilli Come si chiamano Non lo so Qui saltiamo Qui poi scendiamo Qua è chiuso Dai raga Io non vedo niente Però al buio E come faccio ad andare di là Forse dobbiamo saltare qui Si Dobbiamo saltare qui Ho recepito il messaggio Grazie mille In niente Comunque il parkour Non fa per me Raga Mi Perdo La pazienza Ma dove vado Da qua Come faccio Da qua Oh Finalmente La luce Adesso si che le cose cambieranno Come faccio ad andare lì Non riesco a saltare qua Oh Raga raga Non so come Però penso che dobbiamo salire sulla finestra No Ok 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 E ora No Forse qui dobbiamo salire Forse dobbiamo salire qui Vediamo Cosa mi vuoi dire Tu Devo andare qui Non lo so Saltiamo raga Saltiamo Si si Penso di si però Ok 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 ragazzi Direi che Per questo video è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace E ricordate di iscrivervi al canale E fatemi sapere sotto nei commenti Se magari Volete vedere queste mappe Un'altra volta E magari Cercherò di Non essere da sola Ma magari in compagnia E' più divertente Mi vengono meno istinti omicidi Da scoprire Al prossimo video Ciao Grazie a tutti.